In spiaggia è facile trovare qualche organismo marino, come conchiglie, stelle marine, granchietti. L'importante è che tu lasci lì tutto ciò che trovi dove la natura l'ha messo. Catturare una medusa, un granchietto, un pesciolino e rinchiuderlo all'interno di un secchiello lo porterà a morte certa, a causa dell'elevata temperatura dell'acqua all'interno del secchiello. Quindi ricordati, la natura non regala souvenir!